10 anni a te ti regalano il libro chirurgo, no? No, vero? Anche a me, per studiare l'anatomia. Ora, di la verità, c'è qualcosa che non ti torna? No, guarda, scusate. Cioè, scusate, eh. Questa cosa... Ora, la fama a te ce l'ha quadrata. Io doppio è lo spettacolo della gente. Oh, mi devi pagare. Ciccio, mi devi pagare. Stop. Dimentica perché. Io ti schiaccio la testa nella lavatrice, te non te ne rendi onto. Ma vatti a drogare con le tue amiche, oh, ma per davvero. Dai, ma forse di sportivo, mi c'eri a Svezia 0-1. Terezze, ma te mi trovi a 30? Ma ora, te le tappi si scurreggiano, hanno problemi di stomaco. Io penso l'abbiano sognato tutti, insomma. E sono Hello Kitty e Siena Maiala, l'hanno capito tutti. Cioè, diciamoci la verità, via. No, ma veramente sono molto contento perché poi su YouTube... Ecco, no, se volevo dire che lo spettacolo non si può scaricare. Dovete venire a vedere lo spettacolo perché su YouTube c'è roba diversa. Io doppio è un varietà dove i doppiaggi sono una piccola componente di un molto, molto più complesso. Venite a vedere e poi capirete perché. Benvenuti alla storia del cinema. Sono il drago. Muoviti, lascia sta cucciottoli e vieni via. Dai, andiamo. Quanto di euro, scusi, per curiosità? Sono 70 euro. Eh, sai, allora, mi figliola ci tengo. Andiamo, muoviti brutta farda di asino, muoviti. Cioè, il signore ti deve trovare un ballo. Vedi anche furia, si vede, è un nome di affari. Questa è la mia figliola, la farda. Non ti piacere, dai occhi. Ma, dindigli l'elenco delle specialità. La specialità di oggi è il soffocone impavido con il risucchiamento anche dell'asse della pelle. Ci abbiamo il menù, sai, l'ideina. E se chiede dov'è che si potrebbe, diciamo, consumare perché io sono molto attento al design, eh. Sono lusingato alla presenza degli spettatori di Canale 10 e sono venuti a Zashol qui a Firenze a vedere questo spettacolo. È la festa di tutti, no, veramente, è uno spettacolo di tutti, è uno spettacolo di coinvolgimento del pubblico, doppiaggi, ma non solo, tanti doppiaggi nuovi, ma anche dei momenti bellissimi con il coinvolgimento. Quindi io sono felice, sono lusingato, sai. A volte a Firenze si pigliano delle ghignate notevoli, invece fanno due serate a Zashol così belle. Eh, 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 voglio dire. Sei un one man band, quasi due ore di spettacolo, tutto da solo. Eh, è un one man culo sono, perché è un bocciolo così, però tutto da solo no, chiamo la gente dal pubblico, in realtà lo spettacolo lo fa la gente, è un reality show teatrale. Come sei colfino, ciccio, eh, non te lo impumano tanto, non ti preoccupare. Vai, vai, bella camicina, va, come ti chiami? Niccolò? Niccolò, oioi, Niccolò. Oioi, ce la fai arrivare sopra? C'è solo bambini, bamboni, gente, bambini di 30 anni, bambini di 40, bambini di 7, bambini di 80, c'è un pubblico veramente vasto, è uno spettacolo popolare, quindi è giusto e sia così. Cosa c'era negli anni 80? Il grillo parlante, eh? Vi ricordate il grillo parlante? Era una merda il grillo parlante. Ti voglio bene a bestia, a bacioni, al bacio proprio. Il cinema non è geloso mai, lo puoi riscoprire, lo puoi amare come se fosse il primo giorno. Alla fine, ecco, ci penso veramente bene e credo che è proprio vero che se la vita è un po' come il cinema, allora la vita è bella. Grazie. 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 Grazie.